Questo è il risultato, 13 leggeralità per Megan Udentù e Orpide Dufuara, anche Megan componente della squadra svizzera, presente ieri in Coppa delle Nazioni. Torniamo al primo italiano Lorenzo Sciacca e il numero 65 di Webster, vincitore di una delle gare in questo weekend qui ad Arezzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.